I campioni firmano le più grandi imprese, Centro Italia Sport di Viviani e la grande impresa che firma i migliori impianti sportivi, leader nel settore. La Centro Italia Sport realizza impianti sportivi e parchi giochi, fornendo tutti gli accessori per la manutenzione. Centro Italia Sport ad Alba Adriatica, contattateci allo 0861 78 20 41 oppure cliccate su www.centroitaliasport.it. Allo sport ci pensa Viviani! Senti questa musica che arriva, nasce lentamente e poi ti porterà, In un posto pieno di allegria, e dove lei ci porta tu lo scoprirai. Scaccia la tua noia e la tristezza, segui la tua stella che ti porterà, In un posto pieno di allegria, con tanti amici nuovi ti divertirai. Se l'arcobaleno tornerà, su nel cielo nell'immensità, un bambino ti sorriderà, tra i colori della festa e il carneval. Batti le mani e il ritmo di Alba Adriatica, batti le mani e canta insieme a noi. Batti le mani e il ritmo di Alba Adriatica, batti le mani e balla insieme a noi. Metti la tua maschera di gioia, sul tuo viso e i vedi che ti porterà, Tra la gente in grande compagnia, e dove lei ti porta tu lo scoprirai. Se l'arcobaleno tornerà, su nel cielo nell'immensità, un bambino ti sorriderà, tra i colori della festa e il carneval. Batti le mani e il ritmo di Alba Adriatica, batti le mani e canta insieme a noi. Batti le mani e il ritmo di Alba Adriatica, batti le mani e balla insieme a noi. Batti le mani e il ritmo di Alba Adriatica, batti le mani e canta insieme a noi. Batti le mani e il ritmo di Alba Adriatica, batti le mani e canta insieme a noi. 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 Grazie a tutti 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 Gabriele Grazie a tutti 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 Grazie a tutti